FEDERAZIONE TRENTINA PROLOCO PRESENTA VOLONTARI, PERSONE DA VIVERE LE AVVENTURE DI PIERRE E DELLA PRIMA PROLOCO D'ITALIA ROMANZO BREVE DI ANDREANA CASTELLI E IVO POVINELLI SEDUTO SU QUESTA PANCHINA DI PIETRA RESPIRO GLI ODORI DELLA MIA INFANZIA MI APPOGIO AL BASTONE, CHIUDO GLI OCCHI E CERCO DI RICHIAMARE ALLA MENTE IMMAGINI DI UN PASSATO CHE, NONOSTANTE IL TEMPO TRASCORSO, MI CORRONO VELOCI E NITIDE NELLA TESTA RIVEDO TUTTO, LA COSA PIÙ INCREDIBILLE E' CHE FANNO CAPOLINO EPISODI CHE AVEVO COMPLETAMENTE RIMOSSO, SENTO ADDIRITURA LE VOCI DELLE PERSONE CHE AFFOLLAVANO I MIEI ANNI DI BAMBINO MI LASSO ANDARE A UNA RISATA NEL MOMENTO IN CUI LA VECCHIA MARIA GABRIELLA MI CORRE APPRESSO BRANDENDO IL MATTARELLO DOPO AVERMI SORPRESO A STRAPPARE LE PENNE ALLE SUE GALLINE avevo sentito dire che i cuscini dei ricchi erano fatti di piume d'oca e desideravo rendere più confortevole il guanciale duro e scomodo su cui mia madre riposava il capo la notte le grida stridule della donna mi sorprendono alle spalle e mi sembra che il viso mi si arrossi come dopo una corsa fannosa suppongo che questa malinconia sia un regalo della vecchiaia quando le forze si affievoliscono e il tempo trascorso su una sedia è molto più di quello passato sulle proprie gambe è inevitabile che le energie una volta impiegate in lavori manuali o in affari fruttuosi si riversino nei pensieri sempre che questi siano ancora lucidi mi accorgo che fatico sempre più a ricordare eventi recenti maschero questa pecca facendola passare per sbadataggine ma non mi sfuggono gli sguardi preoccupati di maria e lorenzo in realtà vorrei spiegare loro che ciò mi dà un sollievo inaspettato la decadenza fisica e ancor più quella intellettuale mi hanno sempre spaventato e ho sempre cercato di rifugirne l'ipotesi ora che sono faccia a faccia con il conto presentatomi da un'età veneranda tuttavia questi attimi di immobilità in cui posso immergermi nella contemplazione di ciò che è stato mi sembrano un lusso insperato la mia vita è stata davvero una folle rincorsa l'ambizione ha sempre avuto il sopravvento ma il fine ultimo non erano i beni materiali piuttosto desideravo sentirmi realizzato e avvertivo il bisogno di placare la mia immensa curiosità credo che mio padre avesse intuito fin da subito che quel fuoco mi bruciava dentro per questo decise di privarsi dell'unico figlio maschio e di affidarlo ad altri purché al suo erede venisse concessa l'opportunità di imparare un mestiere e di vedere il mondo le lacrime di nostalgia di quel ragazzino vennero presto asciugate dallo stupore affiorato davanti alla visione di grandi città i rumori familiari furono sostituiti dal ritmo cadenzato che scandiva l'attività della stamperia ho imparato presto i trucchi del mestiere accompagnando i venditori più abili e appena ne ho avuto i requisiti ne ho preso il posto carpendo i desideri dei compratori prima che essi stessi potessero pronunciarli nelle vedute delle più belle città d'europa la borghesia cittadina cercava l'evasione del pensiero la contemplazione di un panorama il fascino esotico di una terra straniera nel battesimo di cristo i poveri cercavano la speranza un dio che li proteggesse o che facesse giustizia questo davo loro l'idea e la convinzione che cercavano la grazia ricevuta per un figlio guarito o ritornato dalla guerra la vergine maria per propiziare una gravidanza alle sofisticate attenzioni che rendevano bella un'immagine aggiungevo un pizzico di magia all'artificio dello stampatore mescolavo il sortileggio delle favole che incantano il compratore sono stato aiutato nel mio lungo viaggio da una scaltrezza che ho affinato con l'esperienza ora che sono vecchio posso concedermi un piccolo vanto devo ammettere che ero un giovanotto sveglio e che apprendevo con velocità mi sono sempre mosso con estremo agio negli ambienti più disparati credo che questa mia sfacciataggine abbia contribuito non poco la riuscita della mia più grande impresa la conquista della mia cara moglie ecco in questi momenti mi accorgo che il mio cuore oltre ad essere più affaticato oggi è anche più tenero che in passato fatico a trattenere le lacrime ripensando a lei chissà perché appena la mia memoria la nomina ricordo prima di tutto i riccioli che sfuggivano dall'acconciatura complicata per ricadere sul collo i miei occhi lacrimano deve essere l'aria di settembre che solleva il ricordo polveroso che l'estate ha lasciato sul terreno maria arriverà a breve con il pretesto di chiedermi qualche cosa porterà con sé una coperta leggera da adagiarmi sulle spalle lei è uno dei tesori più preziosi che questa vita mi ha concesso e io uomo che si è sempre tenuto a debita distanza dai santi ringrazio il cielo per avermi ricondotto a lei trovo ironico il fatto che un viaggiatore come me abbia trovato ciò che lo completa nello stesso luogo da cui è partito sono certo che se avessi trascorso qui tutti i miei anni non avrei mai realizzato quanto sia importante per me questa piccola porzione di mondo dopo tanto girovagare sono quasi inciampato nella mia terra natale qui cercavo riposo per un animo sempre in moto ma la mia inquietudine mi ha inseguito anche tra queste montagne in lorenzo e in mia sorella ho trovato terra fertile in cui seminare nuovi progetti e la quieta immobilità di questo paese è stata scossa dall'entusiasmo che non sono riuscito a trattenere per la prima volta ho capito che tutte le mie forze erano dirette nella giusta direzione forse è per questo che adesso mi sento quasi sfiancato il mondo mi ha accolto ma ho avuto bisogno di tornare a casa per darmi un significato dall'alto di questa collina circondato dal verde del parco vedo l'albergo che tutti noi abbiamo realizzato in fin dei conti io sono proprio come quella costruzione come lei mi affaccio su vallate e pendii volgendo lo sguardo a un paesaggio che sembra infinito e pronto ad essere conquistato entrambi sembriamo a un passo dallo spiccare il volo questa prospettiva di libertà però è resa tale dal contrasto con la montagna che ci protegge le spalle e che getta la sua ombra su di noi a tratti sembra opprimente ma nel momento in cui la verità fa paura la sua presenza è rassicurante vedo maria arrampicarsi lungo la salita spengo i pensieri adesso sento di meritare davvero un po di riposo federazione trentina proloco ha presentato volontari persone da vivere una storia dal passato per provare a immaginare il futuro